Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale youtube e sulla mia pagina facebook oggi facciamo un contenuto un po' particolare nel senso che secondo me è una cosa che viene data estremamente per scontata mentre in realtà quello che vedo io è che una secchiata ritengo che il termine giusto sia veramente secchiata di persone nel 2022 fanno ancora fatica a capire quando è che un piegamento è fatto bene oppure è fatto male allora cerchiamo di capire cos'è il fattore determinante per capire quando un piegamento a di là che sia fatto bene o male è una cosa sicura quindi cerchiamo di legare il concetto del piegamento a terra a tutti gli altri movimenti che sono tipici delle calisteniche che riguardano di fatto una spinta che sia orizzontale poi il piegamento non è realmente una spinta orizzontale perché solamente il planche push up di fatto è una sorta di spinta orizzontale dove il corpo rimane sempre orizzontale il piegamento diciamo che il corpo si muove un po' su su tutti i piani quindi è un po' più un lavoro multipiano però mantiene una grossa fetta di lavoro sul piano più orizzontale rispetto ai piani inclinati e quindi mi piace un po' di più farlo appartenere a questa categoria di elementi di spinta ora cosa comune a tutti i movimenti di spinta dei calisteniche che il reclutamento della muscolatura dominante che nel nostro caso è quella della spalla affinché quest'ultima sia ottimale dovrebbe avvenire sempre con una depressione scapolare tendenzialmente quello che succede se non si fa questo tipo di setup scapolare è che non è improvvisamente che o non faccio più piegamento si apre il pavimento, si apre uno squarcio, arriva alla delore no, cioè il corpo un modo per fare l'esercizio lo trova lo stesso questo cosa comporta? che entrano in gioco tutta una serie di sinergie muscolari di muscoli accessori che rendono effettivamente l'esercizio fattibile però il lavoro si sposta su altri distretti questo può voler dire andare a coinvolgere muscoli che non sono prettamente lì per fare questo tipo di lavoro e quindi infiammazioni nella spalla e via dicendo questo perché di fatto tutti i range di movimento hanno dei muscoli sinergici oltre a quelli primari, quindi primal mover per evitare che se un giorno ci alziamo e qualcuno ci ha sezionato il mover primario noi non siamo in grado di fare un range di movimento no, riusciamo a fare lo stesso semplicemente abbiamo dei muscoli sinergici quindi vi dicevo la depressione delle scapole ora, io ho chiesto al carissimo Francesco Oapman Castellini di farmi un video ok, questo perché? perché io in questo momento sono fuori gioco perché è quello che riguarda i gomiti perché ho i gomiti estremamente rigidi in ciò che riguarda la flessione quindi vedete che i miei gomiti non si chiudono tantissimo non è un problema del bicipite perché nemmeno se io spingo il gomito faccio solo rigidità capsulari che mi tiro dietro da quando facevo le verticale ad un braccio e pesavo quasi 90 kg e quando vado a fare lavori di spinta troppo frequentemente durante la settimana non ci sto dietro questa roba qua mi ritorna e mi impedisce di mettere carico sul gomito completamente esteso quindi fare verticali addirittura arrivare a fare le trazioni inizia a essere problematico quindi devo starci veramente molto attento non è un problema ai tricipiti infatti è una cosa molto strana che si irradia in questa zona qui è un problema articolare probabilmente micro movimenti di rotolamento quindi dopo slide, rotazione eccetera eccetera fanno sì che quando ci sono delle micro alterazioni in quella che può essere la maleabilità dei tessuti della capsule articolare questo va dato a comportare queste irradiazioni di fastidio che ci sono a livello dell'avambraccio alla fine perché non è un problema del tendine del tricipite perché riesco a fare il push down con 50 kg se fossi a tenere del tricipite non lo fate ecco quello è il discorso quindi vi dicevo ho chiesto a lui di farmi questo video di farmi effettivamente un favore in modo da poter spiegare quello che dovrebbe essere la logica dell'esecuzione di piegamenti con una depressione delle spalle costanti quindi andiamo a ipotizzare di prendere il punto più alto della spalla il nostro occhialoso potrebbe essere la volta cromiale e l'orecchio la parte bassa dell'orecchio nel momento in cui la spalla si alza la volta cromiale vista lateralmente si avvicina verso l'orecchio nel momento in cui la spalla rimane bassa la distanza dalla volta cromiale alla parte bassa dell'orecchio quindi dove ci fa il piercing sostanzialmente rimane sempre la stessa quindi adesso vediamo che cosa succede quando Franceschino fa i piegamenti se voi prendete i suoi piegamenti in planche succede esattamente la stessa roba li trovate sul mio canale instagram da questa posizione come vedete la distanza è veramente sempre la stessa potete addirittura andare a guardare la distanza non solo dalla volta cromiale all'orecchio ma anche dalla volta cromiale alla bella vena che c'è sul suo collo che la vedete man mano che lui fa l'esercizio eccola lì la venazza la distanza rimane sempre quella quindi cari amici trainer se volete valutare in modo corretto la depressione della scapola voi dovete prendere il piegamento il video del piegamento visto lateralmente stopparlo in qualsiasi momento e indipendentemente dal punto in cui il tronco si trova in cui il collo si trova vicino distante al pavimento questa distanza deve essere sempre costante se non c'è significa che probabilmente la scapola si è sganciata e stanno lavorando i muscoli accessori come per esempio il capolungo del bicipite e per esempio il sovraspinoso che sono comunque muscoli che possono assistere quella che è la flessione scapolo merale quindi detto questo ragazzi spero che vi sia stato utile e che utilizzate questi riferimenti per poter capire quando un piegamento è giusto o è sbagliato o meglio più che è giusto un piegamento che ha una buona attivazione muscolare sui muscoli prime mover che dovrebbero essere l'oggetto, l'obiettivo dell'esercizio e quando invece è semplicemente un esercizio compensato bene? ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video